Nasce l'Aerotech Campus, il nuovo hub per l'innovazione tecnologica della divisione Aerostrutture di Leonardo. L'annuncio è stato dato presso il sito produttivo di Pomigliano d'Arco alla presenza del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, del Vice Premier e Ministro dello Sviluppo Economico, del Lavoro e delle Politiche Sociali Luigi Di Maio, dei rappresentanti delle istituzioni locali e dei vertici di Leonardo. La sfida per il futuro del paese passa dalla sua capacità tecnologica e dalla crescita del mezzogiorno. Leonardo si candida a giocare un ruolo cruciale per il rilancio competitivo del sistema Italia, attraverso un piano di investimenti che passa da un patto con le istituzioni. Il nostro obiettivo è invertire la rotta e rendere i nostri impianti produttivi in eccellenza del settore manifatturiero, afferma Alessandro Profumo, amministratore delegato di Leonardo. Il Vice Premier Di Maio ha annunciato lo sblocco di un miliardo di euro per l'industria aeronautica italiana. Sono circa 334.000 i contratti programmati dalle imprese nel mese di febbraio e saliranno a poco più di 1,1 milioni nel trimestre febbraio-aprile 2019. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, si registra una flessione delle entrate previste, meno 13.000 rispetto a febbraio 2018 e meno 25.000 rispetto al periodo febbraio-aprile 2018, un andamento ancora assegnato dalla debole congiuntura del mercato interno ed europeo. Sono alcune delle indicazioni contenute nel borsino delle professioni, presenti nel bollettino mensile del sistema informativo Excelsior realizzato da Union Camere e Anpal. Sviluppare la cultura aeronautica e la promozione dell'aviazione civile attraverso la costruzione di percorsi di alta formazione e la creazione di un network of excellence da realizzare in sinergia con università soggetti istituzionali o privati e titolari di know-how aeronautici di livello internazionale. È questo l'obiettivo principale dei progetti ENAC Academy per l'aviazione civile, presentato a Roma, presso la direzione generale dell'ente. È un obiettivo che nasce da lontano, dare una scuola di formazione per formatori con una dimensione interna ed una dimensione esterna senza però l'intenzione di invadere il mercato che non ci compete, ha detto Alessio 40, direttore generale dell'ENAC. Dopo il successo dello scorso anno si rinnova anche nel 2019 la collaborazione fra Intesa San Paolo e Panini con l'obiettivo di avvicinare i giovanissimi al mondo della banca e del risparmio. Obiettivo centrato visto che nel 2018 sono stati oltre 84 mila i conti correnti per me conto app aperti dagli under 18. Numeri destinati a crescere dal momento che fino a oggi sono già 15 mila i nuovi conti attivati dai ragazzi dall'inizio dell'anno. Quello che offriamo è secondo noi un prodotto di assoluta qualità proprio perché sono servizi per la gestione del denaro dei bimbi e anche degli strumenti di educazione finanziaria che si basano anche su sistemi di controllo parentale, ovviamente il telefono. Caratteristiche di per me conto app sono la totale assenza di costi e la possibilità di gestire la maggioranza dei servizi in digitale oltre a un bonus dell'1% sulle giacenze che verrà accreditato al titolare al compimento della maggiore età. Anche nel 2019 i ragazzi che apriranno un nuovo conto avranno in omaggio il classico album di figurine dei calciatori Panini e un box da 500 figurine. E dal 23 febbraio al 31 marzo torna il Panini Tour App, iniziativa itinerante che lo scorso anno ha visto la partecipazione di decine di migliaia di appassionati, di cui 6.000, agli eventi organizzati nelle filiali della banca.